Eccoci, siamo arrivati alla fine del libro di Isaia, stiamo per varcare la soglia del grande Geremia. Ci congediamo quindi da Isaia e vi propongo di sostare sui primi versetti del capitolo 65, richiamando poi anche altri versetti del libro di Isaia. Lo facciamo brevemente partendo da Isaia 65, 1. Mi feci ricercare da chi non mi interrogava, mi feci trovare da chi non mi cercava. Dissi, eccomi, eccomi, a gente che non invocava il mio nome. Ho teso la mano ogni giorno a un popolo ribelle. Essi andavano per una strada non buona, seguendo i loro capricci, un popolo che mi provocava sempre con sfacciataggine. Essi sacrificavano nei giardini, offrivano incenso sui mattoni, abitavano nei sepolcri, passavano la notte in nascondigli, mangiavano carne suina e cibi immondi nei loro piatti. Bella l'immagine del Dio che continuamente si propone, dice, oh ma io sono qui, eccomi, eccomi. In questa sezione, in questi oracoli conclusivi del libro di Isaia, ritorna tante volte il tema del nome. Gerusalemme avrà un nuovo nome, la terra di Gerusalemme e dintorni sarà detta sposata, il popolo avrà un nuovo nome, anche Dio ha un nuovo nome. Il suo nome è eccomi, eccomi qui. È bella l'immagine. E quindi ritorna a quella che è l'immagine dominante del primo Isaia e, in qualche passaggio, del terzo Isaia, cioè la protesta, sofferta del Signore della vita che dice, ma perché non mi ascoltate? Perché volete morire? Se non ascoltate la parola di vita, deperite nella tristezza della morte. Ascoltate la parola, siate come alberi che affondano alle radici e che si nutrono dal terreno, io sono il nutrimento del terreno, io sono l'acqua buona. Oggi nella pagina di Vangelo, nel rito ambrosiano, almeno c'è la pagina della Samaritana, no? Proprio l'immagine della sorgente d'acqua viva che sgorga e Dio dice, io sono la sorgente d'acqua viva, accoglietemi, nutritevi della mia parola, eccomi, dice il Signore. Ma ho cercato di raggiungere un popolo che non mi cercava, mi feci trovare da chi non mi cercava. Io dico, eccomi e nessuno mi ascolta. Diverse volte ritorna l'immagine di colui che propone la sua parola e dice, però nessuno mi ascolta, nessuno mi prende in considerazione. Forse conoscete quel racconto rabbinico che racconta che davanti al grande trono del Creatore, Signore del Cielo e della Terra c'è l'angelo della salvezza e il Creatore dice all'angelo della salvezza, vai e porta la mia salvezza ai miei figli e l'angelo va e dopo qualche tempo ritorna davanti al trono del Creatore e il Signore dice, hai portato la mia salvezza ai miei figli e lui dice, Creatore, Signore del Cielo e della Terra, io ci ho provato, io sono andato dai tuoi figli ma nessuno aveva tempo di ascoltarmi. Anche questa è un'immagine per ritornare sullo stesso tema, il Signore desidera condividere la sua gioia, la sua vita, ma bisogna che lo si ascolti, che lo si accolga, che si aprano porte e finestre la sua presenza. Quante volte Gesù ritorna su questo tema nelle parabole, il ricco che offre il suo banchetto ai suoi concittadini, agli abitanti del villaggio e quelli non ci vanno, ma come dice Gesù? E questa è l'immagine di quello che sta avvenendo, dice Gesù. Io sono il banchetto di Dio offerto ma nessuno ci sta. Allora risuonano in noi i primi versetti, i primissimi versetti di Isaia che abbiamo letto il giorno di Natale. Subito all'inizio è uno dei temi dominanti, uno dei tre oracoli che abbiamo trovato lì nel primo capitolo. Udite cieli, ascolta terra, perché il Signore dice ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. Il bue conosce il proprietario e l'asino la greppia del padrone, ma Israele non conosce e il mio popolo non comprende. Ma com'è il mistero di questa iniquità? Io ho cresciuto dei figli e questi si sono ribellati, se ne sono andati, mi hanno voltato le spalle. È innaturale, è secondo natura che il bue riconosca il proprietario e l'asino la greppia del padrone, è secondo natura che un figlio sia rispettoso del padre. Eppure è avvenuto qualcosa che contraddice le leggi di natura e il mio popolo si è ribellato alla mia presenza. Io che pure sono qui e dico eccomi non riesco a penetrare nel loro cuore indurito. Appena prima di Isaia 65, in Isaia 63, i versetti da 15 in poi, abbiamo letto guarda dal cielo e osserva dalla tua dimora santa e gloriosa, è il popolo che si rivolge al Signore e dice vienici a prendere, noi ci siamo allontanati ma tu non lasciarci vagare lontano. Dove sono il tuo zelo, la tua potenza, il fremito della tua tenerezza, la tua misericordia? non forzarti all'insensibilità, che bello, non fare finta che non ti interessi, non forzarti all'insensibilità perché tu sei il nostro padre, perché Abramo non ci riconosce, Israele non si ricorda di noi, i nostri antenati si sono persi per strada, si sono stufati di noi, non intercedono più per noi, non sappiamo più chi siamo, abbiamo perso le nostre radici ma tu sei al fondo delle radici, tu ci attendi alle radici, quindi riscuotici dal nostro torpore, dalla nostra, dal nostro abbrutimento. Tu Signore, tu sei il nostro padre, da sempre ti chiami nostro Redentore, ecco il nome di Dio, nostro Redentore, perché Signore ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema, ritorna per amore dei tuoi servi, ritorna è anche il verbo della conversione questo, è Shuv, credo che sia in ebraico questo verbo, non vado a controllare perché tanto non ci capisco, ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Che bello, è il popolo che dice guarda noi siamo induriti nel cuore, noi cerchiamo di mettere mano a noi stessi, tu accompagnaci a mettere mano a noi stessi, aiutaci a mettere mano ai nodi nel nostro cuore, non lasciarci vagare lontano, non mollare con noi, ecco questa è l'idea, no? Non stufarti di noi. Cosa sta facendo il popolo? Sta chiedendo un cuore nuovo e questo ci introduce a Geremia perché nel cuore profondo degli oracoli di Geremia troveremo un oracolo su cui sosteremo a lungo, credo, fondamentale nell'economia dell'Antico Testamento, uno dei grandi oracoli di invocazione di un cuore nuovo, anche in Ezechiele troveremo qualcosa, Geremia 31, 31, 34, sono citazioni da imparare a memoria, Geremia 31, 31, 34, è la promessa che il Signore fa del dono di un cuore nuovo. Il testo che abbiamo letto del terzo Isaia invoca un cuore nuovo che permetta di non vagare più lontano dall'acqua di vita, dalla voce del Signore che dice eccomi sono qui e Geremia 31, 31, 34 parla proprio del cuore nuovo plasmato dal soffio nuovo di vita, dal respiro nuovo, ce lo leggiamo soltanto e così concludiamo. Ecco verranno giorni dice il Signore nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò un'alleanza nuova, non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri quando li presi per mano per farli uscire dal paese di Egitto, un'alleanza che essi hanno violato benché io fossi loro Signore, parola del Signore. Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore, porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo finalmente. Non saremo più nella condizione in cui il padre insegue il figlio, non saremo più nella condizione di innaturalità per cui il bue conosce il padrone, l'asino, la greppia e invece i miei figli non mi riconoscono. No, noi diventeremo una cosa sola, io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri dicendo riconoscete il Signore perché tutti mi conosceranno, neanche i profeti dovranno più alzare la voce per dire così dice il Signore, ascoltate la voce. No, perché tutti l'ascolteranno la voce, tutti mi sentiranno dire eccomi qui, eccomi qui e ascolteranno la mia parola. Tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande, dice il Signore, perché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Li renderò nuovi, creature nuove. Bene, ringraziamo il grande Isaia con la costellazione dei vari, Isaia, le voci profetiche che sono entrate nel suo libro e marchiamo la soglia di Geremia. Siamo curiosi, eh? Geremia avrà uno stile parecchio diverso, sarà interessante ed avventuroso passeggiare nelle sue pagine. Bene, buona continuazione di cammino. Grazie.